Filmaster Events realizza The Place to Die, l'upfront per la presentazione del palinsesto autunnale di Discovery Italia. L'evento, il quinto organizzato da Filmaster per Discovery Italia, ha visto la partecipazione di oltre 600 ospiti. La giornata, interamente gestita da Filmaster Events, si è aperta al pomeriggio con la conferenza stampa ed è poi proseguita la sera con l'atteso upfront dalle 19 con un'esclusiva cena plassé firmata dal famoso chef stellato Moreno Cedruni. A fare da cornice alla cena una parete di schermi LED di diversi formati lunga 30 metri e diversi palchi che consentivano una maggiore interazione con il pubblico. Signori e signori buonasera e benvenuti alla Notte Discovery Upfront 2016. Questo è The Place to Die. A presentare le novità Gabriele Corsi, volto di Discovery, che ha condotto il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i canali dell'emittente. La serata ha visto alternarsi gli speech istituzionali a momenti di incredibile intrattenimento, come la performance musicale di Sergio Silvestre, vincitore dell'ultima edizione del Talent Amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.